Matteo, grande presenza sotto il tabellone, grande fisicità, le hai dati e le hai prese? Un commento su questa partita? Allora, siamo partiti subito, a Pompà, abbiamo cercato di dare il massimo, siamo andati sopra di 20, però poi siamo ritornati giù come tutte le partite, ma alla fine per questa partita siamo riusciti a tenere il ruolo fino alla fine. Ecco, secondo te cosa è cambiato rispetto alle altre partite nelle quali alla fine il cedimento è stato tale per cui si è perso, si è vinto, cosa può essere cambiato secondo te? Sicuramente niente, però magari con l'allenamento, a forza di perdere partite, magari è stato quello. Ok, grazie infinite, ciao!